Lezione pratica di estetista e parrucchiere degli alunni dell'Istituto Orso Mario Corvino di Partinico questa mattina a favore di quanti frequentano il centro di urno alcamese Agostino Messana. Ci troviamo presso il centro di urno Agostino Messana di Alicono dove ci hanno aperto le porte appunto a questa giornata dedicata interamente ad un incontro tra gli anziani e i giovani. Abbiamo coinvolto le classi terze del settore estetica e del settore accogliatura offrendo loro un servizio dedicato interamente alla bellezza. I ragazzi della classe estetica daranno un servizio di trucco mentre i ragazzi della classe accogliatura daranno un servizio di parruccheria. La fine della giornata, in maniera così molto divertente, faranno un piccolo detile e verrà premiato il trucco e la concettura più bella. Ovviamente ringraziamo le istituzioni, l'assessorato alla pubblica istruzione, l'assessorato ai servizi sociali e il nostro signor sindaco. Ringraziamo la nostra preside e la professoressa Francesca Damo che ci ha dato la possibilità